Chi è? Amiche, siamo venute perché... Cinta, passegno. Lo so perché. A questa poveretta. Vi dito che lo so. Hanno cambiato il figlio. Figlio mio? Il figlio mio? Le donne. Eh, le donne, le donne. Vempete la bocca, le donne. Ma chi lo sa? Ma chi ve l'ha detto? Nessuno può sapere. Io so questo soltanto. Tanto che tuo figlio, tuo figlio, l'ho veduto. L'avete veduto? Veduto. E dov'è? Dove me l'hanno portato? Eh. Dove? Dove? Non può dirlo. Perché non lo potete se lo sapete? Hanno scomadete. Vi do tutto quello che ha. Ditemi dove l'avete veduto. E ti dico che tuo figlio, là dove è? Sta bene. Bene. Il figlio mio senza di me sta bene. Ma come volete che possa stare bene il figlio mio senza di me? Se ve lo dice lei... No. No. Ma che dite? Io devo correre a prenderlo. Ma non so. Ma se l'avete veduto dovete pure sapere dove l'hanno portato. Se non me lo dite morrò. Se non lo so morrò. Più fai così e più tuo figlio si agita e smaglia e soffre. Ma come volete che faccia? Stare tranquilla. Tranquilla, sì. Morta. Ma io devo sapere dov'è. Devo sapere dov'è. In una casa di re. In una casa di re. In una casa di re. Il figlio mio in una casa di re. Ve lo dice lei. Che l'ha veduto. Grazie. Grazie. Grazie.